ok stiamo registrando buonasera a tutti a questo nuovo a questo nuovo workshop grazie a gabriele lampagni prego gabriele allora oggi faremo nel poco tempo che abbiamo prima tanto facciamo una bella introduzione a quello che è il discorso dei draghi ok allora i draghi sono creature fantastiche mixate ovvero cosa sono le creature c'è anche le spalle di adesso si eliminerà il discorso le spalle cosa sono le creature mix a vera sulle mixate sono creature che sono un insieme di più creature allora non so come forse saprete o no non lo so comunque io ha supervisionato il l'animazione in house of the dragon per mpc nel 2019 2020 inizio 2020 perché è andata per circa quasi due anni è andata la produzione e appunto sul discorso dei draghi facciamo uno studio abbastanza approfondito a livello di quali tipi di creature potevano essere usate per comunque animare un drago anche perché l'anatomia del drago è abbastanza complessa nel senso se vedete questo questo è tra l'altro la viverna a viverne diversa dal drago se poi si parla anche del discorso di verna versus drag in realtà poi stasera faremo proprio stasera faremo un workshop dove analizzeremo proprio l'anatomia del drago che abbiamo qua e poi nel prossimo workshop faremo proprio cominciamo animarlo prima però è bene capire l'anatomia del drago proprio perché non è una cosa che è semplice e molto complessa e soprattutto permette di capire anche molte altre creature perché comunque sia perché il drago il drago è la creatura più usata diciamo di ricordate c'è stato un boom di draghi negli effetti speciali siamo passati da harry potter a smog ai draghi di game of throne vari draghi negli ultimi anni che si sono scendati sullo schermo perché è una creatura che è sempre bella ad animare però poi erano i draghi realmente poi animati bene nel senso che sì a livello tecnico l'animazione era bella però poi c'erano problemi a livello di peso c'è molti di quei di quei draghi abbiamo visto sullo schermo in realtà erano draghi avevano problemi a livello di pesa a livello di body mechanic perché si cercava di prima di tutto c'era un c'era una differenza fondamentale di non teneva in conto i draghi che voi vedevate sullo schermo molte volte erano diverne cioè allora le diverne sono queste le diverne hanno due zampe e usano le ali come zampe esattamente come i pipistrelli allora noi adesso dobbiamo andare a prendere il nostro crita purtroppo che non c'ho non c'ho la tavoletta ma è uguale tanto facciamo allora noi andiamo a prendere un pennello un pochino più allora quando si parla di drago ora qui purtroppo sono con con il mouse quindi purtroppo comunque un drago va bene se non si prende questo come struttura del drago un drago è a quattro zampe ok quindi quando noi si parla di drago si parla di un drago a quattro zampe dove le ali sono attaccate sul dorso cosa significa che il volo del drago partirà dal dorso ok che non è banale come cosa attenzione perché c'è tutto un meccanismo diverso a livello meccanico si trattato verso l'alto in pratica che subentra si prende come l'elicottero cioè c'è un volo ascensionale va bene c'è un volo ascensionale che lo porta presente il peso diciamo lui appeso alle ali in questo modo va bene il peso delle ali e scusate il peso del corpo va bene rimane in basso magari con le zampe ok ciondoloni e il volo ascensionale significa il volo di questo nel drago sarà più simile a un uccello va bene auguro i grossi uccelli come potrebbero essere gli eroni come potrebbero essere ci potrei mettere anche i fenicotteri o cose del genere quindi i condor per esempio quindi questo up and down però sempre ascensionale che questo è il drago di draghi reali sullo schermo non sei quasi mai visti a parte in auto trainer dragon dove c'è draghi con quattro zampe ovviamente che che volano poi c'è la viverna la viverna la sua struttura è praticamente le ali che fanno da da zampe anteriori e le due ali e le sedate le due zampe posteriori la sentia che qua invece avere le ali sul dorso l'avremo laterali va bene una un animale che può far capire e come volano schiamiamolo più di strada della frutta è questo è la volpe volante il flying fox ok il pp3 ho chiamato anche fruit batteri di strada della frutta ovviamente se noi si fly fox siamo ecco questa era l'altra proprio la reference che si era preso anche per auto dragon quindi se noi si vede come come volano questi grossi pipistrelli praticamente creano una specie di corrente d'aria davanti a loro e sfruttano la corrente d'aria e creano per poi planare ok quindi è una meccanica totalmente diversa da quella del drago a quattro zampe quindi quello che noi vediamo la maggior parte delle volte volare sullo schermo è una viverna che ha la meccanica di volo simile al flying fox lo vedete plana e c'è questo chiudere ruotare le ali e riaprire indietro per quanto riguarda le ali questo è importante vedete qui si vede proprio bene raccoglie spinge indietro e crea questo vortice di fronte a balle allora ovviamente questo riguarda la parte delle ali che queste parti delle ali qua sono quelle di una di volante ok questa parte qua ovviamente poi si divide quello che è volare da quella e camminare intanto analizziamo il volo questa parte qua può richiamare e il collo può richiamare un po le anatre quindi vedete la meccanica di volo è totalmente diversa però vedete hanno questo movimento a s che parte dal cest questo è il collo questa è la testa ok che lavorano in contrapposto cioè cosa vuol dire che quando praticamente questo va su questo comincia ad andare giù quindi mentre si contrappongano va bene creando un movimento sinusoidale quindi noi abbiamo praticamente questo questo è questa sequenza che è praticamente ok bacino busto testa che si alternano 3 2 1 in questo modo praticamente ora qui devo ovviamente mi sei rotta la tavoletta proprio ieri per riordinare però e prova bene nel senso tanto non è anche così alla pente perché perché c'è la cosa allora quindi veramente abbiamo questo 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 ok che si muovono in questo ordine quando questo va su questo rimane in questo punto anzi questo rimane qua e questo comincia ad andare giù ok quando comincia ad alzarsi la testa questo va leggermente giù e questo ma dall'altra parte tutti sfalzati tra di loro in modo da avere sempre questa silhouette quindi questa e questa ok quindi questa è la testa ok che giù il busto è su il bacino è a metà e poi qua ok quindi diciamo è sempre è così sempre ok con questa sequenza praticamente la cosa più semplice è mettere tutti i controlli diciamo con la testa giù e il bacino su contrapposto e poi sfalzare controlli tra di loro di una decina di frame a questo punto abbiamo questo movimento su esattamente come le anapre quindi davanti abbiamo cosa che nel drago a quattro zampe non abbiamo perché il drago a quattro zampe ovviamente è farà una cosa più contenuta dove però non c'è tutta la spinta che abbiamo perché tutto come abbiamo detto parte dal dorso quindi sarà più magari un discorso di solo di ceste però dando dei leggeri overlap dei movimenti secondari a quelle sono la testa e le code ovviamente le zampe saranno ciondoloni quindi sarà un po come un grosso insetto un grosso colorottero però la viverna è già più complessa quindi abbiamo la nostra meccanica delle ali che è un grosso pepistrello la meccanica del gusto e della testa che è di un'anatra o comunque di un uccello dal collo lungo che potrebbe essere una cicogna che potrebbe essere un erone e abbiamo la coda che ovviamente segue questo movimento sussultorio ok le zampe sono che si va a prendere io le zampe sono esattamente come l'aquila se voi vedete questa quando passa da sotto vedete le zampe sono esattamente come l'aquila perché perché una creatura di questo tipo è un predatore non è una preda come predatore deve essere pronto a apprendere e ovviamente arpionare le sue le sue prede per poterle portare in alto e può mangiare non so se vi ricordate avete visto game of thron che ha visto game of thron penso tutti comunque c'è una scena appunto dove c'è drogo drogo che è il drago quello più grosso che prende una pecora e se la mangia e appunto la porta esattamente un'acqua porterebbe una pecora quindi diciamo che più o meno le zampe sono in questo modo il discorso delle zampe è molto importante perché in realtà permette che è di avere quelle quella connessione con appunto con con quello che possono gli animali reali in questo caso dell'aquila quindi il fatto che noi si prenda degli animali reali a riferimento per animare una creazione del genere cos'è che fa chi è che mi sa rispondere cioè per voi perché c'è questa connessione con le reference reali perché abbiamo bisogno di prendere gli animali reali perché abbiamo comunque una base anatomica su cui poterci basare e una reference che a livello psicologico da il senso di realismo a chi lavora esatto esatto crei una come alla parte il fatto che ovviamente hai bisogno di analizzare anatomicamente hai bisogno che non solo per il pubblico ma anche per te queste creature siano reali cioè te devi pensare queste creature esistono perché altrimenti non le animerai mai cioè se te dici vabbè sto animando la creatura che è per un film allora avrai già un qualcosa però te devi pensare che queste creature effettivamente sono reali te le metti in questo mood però e ovviamente c'è tutto un discorso anatomico per cui te hai bisogno di una reference e capire come funziona però crei una connessione appunto esattamente come dicevi te con il pubblico e su cose che conosce già perché comunque sia per questo è importantissimo analizzare le reference capire come funzionano le cose analizzare le anatomiche più che analizzare le reference io diciamo allora le reference importantissime bene c'è un uso sbagliato delle reference da parte degli animatori perché molte volte gli animatori prendano e copiano senza pensare esattamente la reference e questo è sbagliato perché fai in quel modo fai un rotoscopo della diciamo di quello che hai davanti senza capire però come strutturato la tua cosa quindi significa che alla prima volta che ti troverai a dover fare una cosa diversa va bene da quella reference e non non avrai una reference perché non c'è una reference per tutto anche se si cerca di trovare sempre una reference per tutto ma non c'è mai una reference per tutto allora a quel punto avrai un problema perché lì ci sarà un discorso di non sapere come è strutturata questa cosa cioè come non lo so disegnare una parete va bene te puoi disegnare una parete bianca può fare un qualcosa gialla va bene però se ti dico che quella parete la voglio prospettiva da un'altra parte nevi capirò mai fatta la prospettiva perché un conto è disegnare quello che hai di fronte un conto è cercare di capire che è un po quello che fa la differenza anche quando si disegna quando si modella quando si si anima appunto non capire quello che abbiamo di fronte porta a una semplice copia della cosa però quella copia ha dei limiti che sono non sapere cosa cosa stiamo facendo cioè si copia e vedi questa cosa si muove quel modo però se non capisci la struttura se non pensi che qui ci sono delle ossa che c'è una scapola c'è una cassa toracica ci sono dei muscoli dei tendini per esempio qua per dire per tendini va bene qua come felini abbiamo un tendine va bene che quando quando cammini da questa spinta elastica sul terreno che è un dettaglio che dà realismo a quella camminata perché se te fai semplicemente un piloff per esempio chi ha visto anche l'altra volta il discorso del maiale no maiale non ha i tendini come i felini quindi senti che quando lui solleva la zampa la fa lo fa in modo più con un peso che differente rispetto a questo che è dei felini che è per una ragione perché felini essendo predatori e contrario dei maiali devono scattare quindi questi tendini sono lì per dare un elasticità e per cominciare a dare un impulso e via via nella forza permette di avere più velocità quindi i draghi essendo predatori hanno lo stesso tendine qua la stessa elasticità dei tendini in questo punto il fatto è non saperlo ok e vi dico io prente per proprio per house of the dragon ho analizzato quasi due ore e mezzo di filmati fatti da pixel mondo per game of thrones e vi posso assicurare che quasi tutte le camminate erano sbagliate quando arrivarono in mpc e ci dissero che volevano una qualità migliore di quello che era stato game of thrones con pixel mondo a me si ce l'ho alzando perché effettivamente vederli passare sullo schermo così no poi senza mai analizzarli ti sembravano un lavoro effettivamente non raggiungibile analizzando però bene l'animazione era state fatte notare c'era stati che erano stati fatti diversi errori di valut proprio a livello di valutazione superficiale che cos'è che fa la differenza di un esperto di creature o comunque un creature animation animator da un animatore il fatto che crea che l'esperto di creature parte da un concetto da una base differente dell'animazione ovvero non c'è solo l'animazione c'è un conoscere l'anatomia e capire l'anatomia avere un approccio scientifico prima di animare cioè prima di animare capire come è strutturata questa creatura prima di animare capire dove sono i muscoli ora io vi faccio vedere un momento questo libro qua non so se si vede tra l'altro me l'ha regalato un fratello e mia madre perché comunque questo è un libro che è fondamentale penso per ma in realtà la copertina si legge male se ti puoi comunque lo vedete adesso no è comunque fondamentale of creator design poi ve lo ve lo linko allora questo libro praticamente prende le creature fantastiche e le tratta come animali reali quindi c'è tutta una serie di tavole anatomiche viene spiegato a tutta la struttura dei muscoli puoi sistemarti il microfono scusami gabrile scusa sì eccolo dove dove c'è appunto tutta una serie di tavole anatomiche che spiega la struttura ossea muscolare e del dell'animale ok io c'ho io c'ho tre o quattro libri così poi ce ne avevo altre comunque tre o quattro libri di anatomia animale che anche quando faccio il supervisore per esempio su ora sono in redmond che faccio il supervisore per una serie animata per per bambini della bbc però ovviamente io sono anche supervisore l'effetto speciale nel senso prima di redmond che stavo lavorando su un progetto che è the woodwalker che è un film tedesco uscirà pensa a dicembre a questo punto ci siamo e dove c'è fatto insieme a vast a vienna e pixomondo dove oltre a fare i supervisori ad animazione dovevo fare anche i supervisori degli asset va bene e mi sono messo lì a modellatore a rigger a fargli disegni anatomici perché il fatto di avere un approccio non scientifico portava che poi per l'amor del dio funziona alla fine ti possano funzionare lo stesso però ti manca quel realismo specialmente qua in un film come questo in questo film c'era animali reali c'era scene con animali reali che dovevano interfacciarsi con animali in 3d e lì deve essere deve avere un'animazione che sia realissima cioè non puoi permetterti di improvvisare quindi feci proprio un discorso anatomico anche a modellatori ai riggeri in modo che già io stesso rigai un orso perché non era come lo volevo eccetera in modo che almeno da lì si partisse su una base scientifica e quando anche quando faccio le mie animazioni il mio approccio è sempre lo stesso per quello che riguarda le creature io parto da una base scientifica ovvero analizzo prima quello che mi serve a livello di anatomie allora in questo caso quindi tornando al nostro drago abbiamo queste zampe ok da rapace vi dico aquila ma potrebbe essere falco potrebbe essere il condore a me piace tantissimo come animale perché il condorandino una creatura enorme che oppure appunto l'aquilarpia quella brasiliana sono rapaci enormi e che sono molto simili ecco direi le creature più vicine nel quando il drago vola a appunto al drago sono le grossi rapaci quindi l'aquilarpia condorandino aquila reale e le volpi volanti le volpi volanti perché hanno proprio questa meccanica di volo delle ali fantastica che è quella poi dei draghi cioè proprio la struttura alare del del della volpe volante la struttura alare dei draghi tanto che si presume che i primi draghi quelli che venivano identificati come draghi in realtà fossero proprio grossi pipistrelli della frutta le famose leggende le famose leggende dei draghi in realtà fossero appunto grossi grossi pipistrelli della gente vedeva e che prendeva come creature fantastiche quindi abbiamo la coda la coda ok la coda è fondamentale in realtà perché la coda permette di di fare da timone ok al al drago quindi e comunque non solo fare da timone ma mantenere il discorso del volo non so non so perché c'è doppio controlli però poi guarderò quindi quando ovviamente il abbiamo il bacino che va su questa coda ok tende a ovviamente a controbilanciare il bacino e quindi fa questa cosa s quindi la coda che è un elemento che molte volte si sottovaluta in realtà ha una funzione ben precisa nella meccanica di volo ok cioè quindi il fatto di pensare a questa coda come qualcosa che stabilizza vi permette anche di capire effettivamente come come il volo si svolge in una creatura fantastica quindi come 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 quella che poi è un un elemento che sembrerebbe secondario in realtà funge come elemento primario perché comunque sia è comunque un elemento che che serve cioè nel senso che comunque sia fondamentale nel dirigere magari il drago tanto lo vedete io lo sto mettendo in posa in questo momento mentre spiego così via via quindi abbiamo detto il bacino il bacino che ovviamente eh qualcuno ha detto no 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 un'interferenza vai tranquillo ok e tra l'altro scusate perché io c'ho questo qua che io c'ho doppi controlli qua che per me c'è un rig c'è un rig che è tutto questo qua si potrebbe anche nascondere infatti questo ci si fa una bella collection e ci si butta qui dentro e si nasconde che se no oh un pochino più pulito quindi qua non so perché c'è due collezioni questo questo grig poi lo pulisco un momentino che ho tempo qua abbiamo appunto la spina e qui abbiamo il chest ok quindi si diceva il bacino non so questa animazione da dove viene da queste cose qui viene guarda forse c'è qualche animazione in più che delle spalle magari andiamo a vedere se c'è qualche cosa eccole qua le spalle no non vedo spalle vabbè comunque allora quindi si diceva mettiamola così non c'è nulla chissà cos'è chissà dove sono queste cose comunque appunto il bacino che si diceva va quindi cominciamo già a fare vabbè però ok allora quindi cominciamo già a fare un po' di 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 pause allora il bacino si diceva va in su ok mentre il chest è in basso quindi significa tutta la spina ok abbiamo abbiamo questo vedete abbiamo questo questa struttura questa struttura questa struttura la prima cosa che io faccio quando animo il volo di un drago è capire ok come si muove il corpo quindi metto già il mio corpo in posizione quando la testa è giù le ali sono su ok quando le ali vanno giù la testa va su perché perché ovviamente la testa dà l'impulso ok per spingersi in avanti al momento che le ali danno l'impulso per andare a basso quindi io so che quindi le mie ali anzi facciamo così questa cosa bellissima di blender che adoro che si può andare in simmetria andiamo un po' di roba se non ci si apriamo niente ok come si diceva prima ha una rotazione esterna ok che poi quando va giù diventa interna quindi così coda che bilancia collo feso ok qui si vuole sentire il muscolo anche se ovviamente si predilige questa curva in basso per avere questa spina così però voglio che questo collo sia si sente sia teso se il muscolo raccolto raccolto ok le ali quando sono indietro se noi andiamo a prendere andiamo a analizzare la nostra quindi andiamo a prendere il nostro ricordate x9 9x divento dislessico con con le ore che passano quindi andiamo a prendere il nostro il nostro video ok e andiamo a prendere un dj player dj view djv quindi andiamo qua non so se avete mai sentito djv no, la prima volta allora in questo momento diciamo i trend a livello di player per quanto riguarda e vfx sono sono djv e open rv rv player è diciamo lo standard usato nell'industria a me a pagamento diciamo sono quelli di autodesk che lo tengono però double negative due anni fa mi sembra ha messo in circolazione open rv ok che benché sia fighissimo e gratuito è tutto da compilare ed è veramente una menata incredibile nel senso che comunque è da compilare tutto il pacchetto mentre invece quindi c'è chiaramente su linux è tutto da compilare no 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 il problema è quello che viaggia anche su windows e te lo devi compilare pure su windows no vabbè ma allora io spero che un giorno però questa è tutta la pipeline interna di double negative quindi c'è tutti i tool di double negative è fighissimo però è cioè nel senso non ho mai conosciuto ancora nessuno se lo si è installato in casa perché però djv ovviamente è già compilato e permette di avere dei tool anche di review e di analisi ok quindi se io vado qua prendo questo sempre ecco se almeno si va bene finish quindi permette di avere anche i tool come per esempio il color piccolo eccetera ma ci dovrebbe essere anche dove è il per annotare forse la versione prima comunque vabbè c'è diverse cose tipo si può andare si può mettere point to point ok per esempio se io se io per esempio voglio analizzare questo questo volo della andiamo qua eccolo qua va bene allora con questo io posso fare go in point go out point che significa che ho set in point set on point quindi se io faccio set in point ok vedete quando plana poi si ridà la spinta eccolo qua ok quindi in realtà il mio set in point va benissimo lì tanto poi poi va qua lo vedete si vede come lo vedete come arriva davanti e poi fa proprio un overlap ok quindi diciamo che io voglio set a un point lo vedete io io ho praticamente solo il pezzo che mi interessa ok quindi posso prendere e analizzarmelo tranquillamente poi lo posso convertire anche in no qui forse non c'è per convertirlo comunque beh volendo si può fare il limite a un colo però già così il fatto lo vedi float on top quindi significa appunto che questo mi rimane infatti lo vedi mi rimane al lato tipo reference lo vedi e quindi io posso andare anche frame by frame e averlo come reference al lato e analizzare quindi questo è diciamo perché non ti sei dovuto scaricare il video non hai dovuto tagliare eh capito questo 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 è un tool sì sì questo è un tool che è buonissimo perché permette proprio di avere qua hai la tua la tua reference ne puoi aprire diverse finestre non dicevi è te un po' tipo più il ref no quando si usa il ref per per le immagini per le immagini questo anche per i video ora dall'altro pure ref pensavo dovrebbe uscire pensa poco la nuova versione dovrebbe avere anche i video quindi guardiamo ti segnalo che esiste il blender ref che è come pure ref però è in una finestra di blender se ti interessa ah questo è questo è fantastico hai video anche eh per i video non lo so credo di no perché lavora come pure ref pure ref fa solo immagini no sì 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 limitato della nella zoomata sì è un po' più limitato nella zoomata ovviamente non ha non è però viaggia bene c'è una bella eh adesso è a pagamento c'è la versione a pagamento diciamo che nelle versioni di blender la versione gratuita di blender ref è installabile però chiaramente non puoi fare l'upgrade del eh certo ma costa comunque veramente una sciocchezza sì ma va bene poi sono quelle cose che uno dà volentieri soldi sì esatto sono quelle cose che servono c'è bisogno per lavorare nel senso c'è mio padre mio babbo io sono di Firenze quindi si dice babbo diceva sempre appunto che quando c'è le cose per lavorare non c'è prezzo che tenga perché comunque sia effettivamente se ti serve gli strumenti ti serve gli strumenti eh allora qua si prende questo e si vedete quando poi va giù dall'altro qui si potrebbe andare la va quando va va giù ovviamente quindi plana quando va giù eccola qua ok abbiamo praticamente l'ala che è quasi alla festa e è più piana allora perché c'è questa cosa di voler fare le ali tra l'altro quest'ala potrebbe anche essere più alta però c'è il fatto che molti pensano che le ali stiano a toccare ma in realtà sono a toccare cioè si estendano quando ricominciano ad andare in giù nel momento più alto in realtà sono curve e quando vanno in giù cominciano a estendersi poi arrivano qua e poi si riestendano quando arrivano in su quindi allora noi facciamo i nostri due questo si può magari prendere una cosa del genere ecco magari potremmo qui essere più raccolto quindi facciamo tutta la nostra chiave ok allora draghi i draghi sono grossi premessa come si dà l'illusione del peso chi mi sa rispondere quando una creatura è grossa qual è la cosa che ti fa capire quella creatura è grossa o piccola ti cade più sentimente sì anche però non è quella la massima diciamo il punto focale la lentezza di movimenti penso bravo più è lento più è pesante vi ricordate Godzilla quello quel capolavoro del 99 bellissimo come si muoveva lento sì ma anche guardando i grossi di Jurassic Park diciamo che tutti grossi però per esempio il T-Rex di Jurassic Park è stato velocizzato era molto veloce cosa che a me dopo con l'andare degli anni mi ha dato sempre un po' noia Pacific Rim lo bottone si muove lentamente quindi più una creatura è grossa più è lenta più è piccola più è veloce i draghi sono lenti cioè talmente tanto lenti che a volte quando io quando io diciamo vedevo le animazioni degli animatori non ti stavo prendendo il giro mi stavo cioè quando quando io appunto mi appunto vedevo l'animazione degli animatori mi meravigliavo di quanto gli chiedessi di rallentare questi movimenti perché non sei abituato cioè nel senso per te ragioni in fotogrammi noi facciamo uno sbaglio ragioniamo solo in fotogrammi come animatori però in realtà dovremmo ragionare in secondi certe volte perché cioè quello è noi pensiamo 40 fotogrammi siano enormità in realtà sono meno di due secondi quindi quando la creatura questo è un trucco c'era anche un ragazzo un animatore che aveva fatto un'equazione su linkedin aveva messo un post per capire di quanto rallentare sì cioè nel senso vanno bene però ogni creatura ovviamente ha la sua struttura quindi diciamo che una buona fase di partenza per i draghi sono 40 un ciclo di 80 frame quindi 40 e 40 ok ed è molto lento Gabriel ma a me per caso sta anche come si muovono i varani i varani sì allora quello lì per esempio è a terra drago di comodo varano e si sono lenti fanno degli scatti veramente sì però però quello è il drago a terra che è diverso dal drago quando vola lì quando è a terra c'è il drago di comodo appunto il varano per come si muove anche a livello della festa c'è una caratteristica del varano del drago di comodo che poi è in realtà degli altri etimi lì è ancora più che la festa si muove in modo lineare non si muove in modo spinale come gli altri animali però è perché è sempre focalizzato sulla preda va bene e sono molto veloci però i draghi di comodo e i varani sono molto piccoli anche cioè una cosa del genere un cane beh i varani sì i draghi di comodo sono belli grossi sì però non saranno mai non sono un drago capito 8 metri cioè c'è delle cose che a livello cioè infatti noi quando quando il drago si muoveva a terra come reference si prendevamo per il per il chest per esempio sul drago a terra i mustang i cavalli perché mustang hanno questo petto enorme che si muove si muove solo di e poi si rallentava noi si lavorava molto con reference rallentate comunque questo facciamolo mettiamolo 31 così facciamo reference rallentate ok molto molto rallentate perché poi poi era diventato all'inizio appunto era un intanto qui io da 31 me lo porto già a 61 che già così ho i miei ok ho il mio scilo che poi correggimi se sbaglio Gabriele cioè noi non possiamo rallentare le scene per fare sembrare gli animali più grossi perché se no rischiamo di far andare di perdere la fluidità dell'immagine no dobbiamo per forza sì sì no dobbiamo dobbiamo per forza bisogna rallentare cioè bisogna sì sì non puoi non puoi rallentare cioè devi fare l'animazione aumentare i fotogrammi in pratica aumentare i fotogrammi sì sì perché comunque quando rallenti anche in composizione cioè nel senso c'è dei film che hanno utilizzato all'ultimo momento rallentare un po' le vedi cioè le becchi subito sì si vede esatto perché c'è il plate che comunque va lento anche poi per l'amor di dio adesso c'è nuovi software di composizione fanno un'interpolazione come fanno tante macchine fotografiche tra un pixel e l'altro lì tra un fotogramma e l'altro esatto però però le becchi cioè nel senso proprio io mi ricordo un Cats quando lavoravamo un Cats c'era una scena che decisero di rallentare vabbè c'è nel senso lo vedi poi non c'era tempo per farla si fa un compositing vabbè però cioè nel senso alla fine va bene tutto te le butti in mezzo a un film quella scena va bene che sia bella no cioè nel senso su un film spalmato di tre ore magari uno va al cinema non se ne accorgi nemmeno te che magari ci hai lavorato vedi quella scena e soffri certo poi fra professionisti magari vi vi giudicate ovvio sì poi guarda io c'ho una cosa c'ho una filosofia che applico a parte casi rari come la gabbianella e gatto quando ci lavorai o napoleon qualcosa di out of the dragon magari però antime mi portarono a vederlo con gli NPC però io di solito non 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 vedo i film a cui ho lavorato perché soffro cioè nel senso quando per esempio vedi anche gli eroi del Natale The Star e c'era questa scena che io avevo fatto va bene l'avevo curata tantissimo era una scena di 14 secondi c'ero stato tre settimane a farlo curare tutti i dettagli eccetera va nel dipartimento di tech anime che sono quelli e poi corregano certe cose a livello di compenetrazione eccetera non so cosa aveva fatto sto qua appena te gli aveva toccato gli occhi va bene e te vedevi a un certo punto gli occhi di uno dei personaggi andavano a fanculo cioè si muovevano quella cosa dura nemmeno un secondo va bene cioè la vedi alla fine non ti accorgi nemmeno però io me ne accorgevo cioè mi davo non l'ho nemmeno messa in real quella scena perché perché vabbè io sono estremo però cioè te ne accorgi se c'è qualche cosa che è stato animato male o comunque è stato smarmellato male dal compositing perché il compositing che tra l'altro è la cosa più stressante della produzione perché sono quelli che poi rimettano a posto tutti gli errori deve essere fatto bene e fare il compositing bene non è facile cioè deve essere bravo quindi quando quando vedi questi e prendono di lato alle scene quindi sì non puoi non puoi farlo non puoi farlo così cioè devi farlo alla base devi prendere farlo già animato e poi da lì quindi per quello è importante anche che tutto funzioni già in animazione perché altrimenti poi quando vai intanto lo vedete io cosa ho fatto abbassato il bacino ho abbassato già le zampe ok le zampe quando come nell'aquila quando si abbassa le zampe si raccolgono leggermente ruotano e poi abbiamo il chest che comincia a salire e poi la testa che sale dall'altra parte ok lo vedete c'è già questa impulso queste sono due pose per il momento però già ci si accorge di come questa ok questa curva del co che poi qua ovviamente questa testa poi anzi scusate questa testa ok e poi guiderà quindi nei breakdown poi guiderà anche la discesa e la salita lo vedete però già da lì si capisce quanto è importante proprio il discorso del collo e qui avremo le nostre ali che prendano e vanno avanti ruotando chiudendosi in questo modo che qui noi abbiamo questa reference che sfruttiamo vedete come all'altezza della frente della testa bene Vediamo se è qua. Se io comincio a lavorare proprio sul discorso della posa, qui lo vedete, c'è proprio questo discorso della chiusura, qui c'è questa spalla che si muove, aspettate, perché questo in realtà l'ho fatto nel punto sbagliato, vabbè, si fa così, si rifà le ali. Mi sono mosso sulla frame sbagliata, comunque, va bene. Tanto così lo rivedete, che non fa mai male, quindi qua si tende a chiudere in questo modo. Grazie. Non so dove è la spalla che si muove, poi vabbè. Guarderò di analizzare questo rig, perché è veramente strano, però possiamo fare la posa simile e quindi... altra cosa che mi piace molto di Blender è che c'è questa facilità delle ortogonali, per cui appunto ci si può muovere molto bene da questo punto di vista. ecco, una cosa del genere... vedete, visto così è un po' strano, però... intanto cominciamo a vedere che qualcosa si muove. è questa che va indietro... copio... 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 e si comincia a... in modo da avere il nostro primo blocking dei fotogrammi chiave. intanto qua ovviamente andiamo a... abbiamo la nostra timeline già... quindi si comincia a lavorare su breakdown, allora... quando lavoro su breakdown ovviamente la prima cosa che analizzo è la testa, che è la testa è quella che dà ovviamente l'impulso, quello che conduce in questo momento, quindi sappiamo che da qui... da 1 a 31... va bene... nel nostro 16... ok... io voglio... che la testa conduca il corpo. qui abbiamo il nostro chest, ok... che... rimane più o meno in questa altezza, però... diciamo il peso è sempre verso il basso leggermente... quindi... che arriva in basso... ok... già... qua abbiamo il nostro bacino che rimane leggermente in alto... prima di andare... e poi... abbiamo le ali... ok... come vi dicevo... quando cominciano ad andare in giù... qua... importantissimo... si spiegano... perché deve andare... il colpo d'ala... ok... lo vedete? e qua... lo vedete... come si sente... come... come già... creano... si intravede la forza di spinta per... eh... per buttare più aria possibile... sì... esatto... perché poi è arrivato qua... poi... e poi ovviamente qua... si raccolgano per... avere ancora più forza... la coda... che io normalmente faccio alla fine... qui non l'avevamo fatta... però la coda qui era... dall'altra parte... in reverse... infatti non si era fatta... però è molto importante... che questa coda... vada... a bilanciare dall'altra parte... quindi questo qua... vedete? c'è questo movimento sul sultorio... e... qua si può anche andare più su... e questo andare più qua... boom... e qua... la nostra coda... intanto qui si fa... se vi incrementa... qua la nostra coda andrà su... per dare il colpo... ok... per favorire il bacino... quindi... sarà... boom... e poi qua... dopo andrà giù... intanto però... pensiamo... a questa metà... colpo di coda... vedete? perché appunto la coda fa da... forse un po' meno... fa da timone... quindi andiamo qua... qua possiamo... un piccolo anticipo... quindi... anticipo per portare su... un drag... in questo caso... perché comunque arriverà qua... un overlap... scusate... in questo caso... sì... che poi in realtà... il drag... non è altro che... l'azione dell'overlap... quindi io mi faccio... prima la mia metà del ciclo... quindi il collo... questo... in questo momento... ovviamente... sto andando in layering animation... allora... preso... ho... individuato i miei... fotogrammi chiave... e adesso... sto andando... in layering... ovvero... elemento elemento... a... animare... la mia anatomia... in modo logico... allora... qui per esempio... voglio che questo collo... sia molto... ecco... magari... una cosa del genere... qua... avremo... il nostro chest... che sarà... un piccolo anticipo... un piccolo overlap... un piccolo overlap... un piccolo overlap... così... ok... e poi... andiamo su... il bacino... quindi... il bacino... un bel momentum... però qui addirittura... avremo... una spinta verso l'alto... ok... come un impulso... vedete... che poi... che poi... che poi... quindi... abbiamo questo impulso... e poi lo porta giù... in... overlap... e qua... le zampe... ok... un... ok... 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 vedete... ok... come sta diventando... già più organico... poi qua... Ok, come abbiamo visto prima, andiamo ad analizzare questo. Abbiamo proprio, vedete, un drag delle ali che però funziona anche dalla parte opposta, nel senso quando si va qua. Appunto va dalla parte opposta, quindi le ali subiscono questo drag, ovvero qua per esempio abbiamo proprio, vedete, e adesso va così. Circolare, e poi quando arriva qua va proprio per lappare a chiudere. Vedete? Qua addirittura forse anche un po' troppo, si può proprio prendere e farlo leggermente più dritto. Vedete? Vedete. Dun Quindi qua, magari, fammi vedere, qui forse un po' troppo, si può regolare leggermente questo. Vedete? Adesso dobbiamo fare l'altra metà. E poi dopo vi faccio vedere, si fa un baking 4 e abbiamo il nostro primo blocking, perché qui ancora siamo nel blocking, non è che siamo ancora nella fase primordiale dell'animazione. Poi si riparte alla testa, la testa prende, si tuffa in giù, con il collo che... E la testa va a... Piccolo anticipo... E poi giù, in overshoot, per poi ritornare su. Vedete? Si tuffa, si tuffa. Ok, una volta animata la testa, ovviamente si passa al nostro chest, che ovviamente quando arriverà qua sarà un po' in ritardo rispetto al resto. Quindi si arriverà qua e poi andrà in su. Questa cosa qua arriva... E il bacino sarà... Ovviamente il peso del bacino che lo porta... No? Sarà ancora giù. E poi su a dare la spinta. Fum. Ecco, ovviamente hai tutta la spinta, lo vedete? Qui la coda si comporterà sempre da timone. Beh, certo, pensare che poco più di un'ora fa era prende fermo, incredibile. La cosa bella è l'animazione, no? Che è anche il motivo per cui a me piace tanto animare. perché riesci a vedere, a prendere vita, poi entri in un mondo tutto tuo. In questo momento io sono preso da... Un po' di sindrome di tipper in pratica. Sì, un po' sì. Tipet, anzi, corrego. Tipet. 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 Qui si va... Ovviamente arriva... Fum. Prende... Su. E poi qua... Possiamo. Questo però lo voglio... Vabbè, 61 perché tanto poi si fa un cielo. E adesso le ali sono la cosa più divertente. E quando arriviamo qua... Arriviamo qua. Qui è dove abbiamo proprio la pesantezza delle ali. Ok. Arrivano. Vedete, vanno avanti. Fanno un bel drag. Poi magari qua gli danno un overlap. E poi vanno ok. Ok. Questi qui devono essere uguali. Un momento. E qui ovviamente c'è il discorso del cielo. Donā. Vanno... Vanno. .. Vanno... ecco magari poi si ritorna sulla coda allora a questo punto mi faccio un save incremental non mi sembra rimetto a 61 sono sicuro allora sono 60 frame va bene? 60 frame che possiamo dividere per 5 o per 4 anche se volendo perché viene 15 15 fotografi 15 k frame quindi se no si fa 60 diviso 4 appunto abbiamo 15 pose che poi vengano vengano risultano appunto nel nostro blog quindi possiamo fare ogni 4 possiamo fare ogni 6 però io preferisco sempre ogni 4 2 8 diciamo che ogni 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 4 va bene ok si puoi un attimino rispiegare questo concetto in pratica serve per ricchiare i loop se non erro no per creare i loop ma praticamente fai il blocking ovvero cos'è il blocking il blocking è il blocking è praticamente il rough dell'animazione è la prima parte dell'animazione quando io faccio il blocking se vedete uso questo andare direttamente in spline ovvero praticamente è come se io andassi a fare la mia animazione ripulendola via via o comunque già facendo da tutta in maniera organica poi lavorando prima sui pose ovvero i pose chiave io ho visto due pose chiave che erano quelli miei di apertura e chiusura delle ali e poi lavorando in layering animation ovvero un elemento per volta cominciando dall'elemento del corpo che conduce l'azione che abbiamo detto il collo si la testa e il collo sono appunto le due andando poi in catena in questo caso è molto semplice vederlo perché collo chest bacino bacino e dopo che io ho questo che io ho fatto io devo rimetterlo in step ovvero in step ed mode con le con le curve in step trasformando i miei pose che ho lo vedete in tutti i sparsi in pose di animazione che poi posso cominciare a vedere se funzionano di più o meno a livello di design quindi rifare le pose e tenere la mia struttura più pulita ok quindi la prima cosa che io faccio è prendere fare bake action ok ok frame step 4 ok e poi vedete l'ha già fatta ripulito tutto ora qui va particolarmente lento non so perché credo che sia lo streaming in generale perché lo streaming streaming si si lo streaming prende un secondo source comunque ma prima andava bene comunque adesso se io faccio un mio handle type ok scusate interpolation mode lo faccio constant vedete lo stepped e a questo punto io si però qui c'è qualcosa che è successo qui c'è questi controlli che si muovono però vedete ho i miei pause ora andiamo a vedere un pochino cos'è che se c'è qualche cosa che rompe chrome è sempre chrome è sempre chrome ah ma perché sono con zoom ovviamente eh sì te l'ho detto sì quindi a questo punto appunto facciamo così così e si è piantata eh ma è rallentata tantissimo possiamo provare a fare una cosa magari salvi riavvi facciamo due minuti di pausa un bicchiere d'acqua e una cosa e continuiamo nel frattempo chiudi si guarda intanto risalvo chiudo e riavvio va bene e poi vabbè questo si può anche chiudere e e comunque anche questo prende risorse quindi possiamo anche ok e niente allora ci vediamo fra 5 minuti 5 minuti di pausa 5 minuti di pausa ok perfetto vai adesso di pausa di pausa di pausa di pausa di pausa Grazie a tutti. 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 Ecco, lo vedete? Ora qui non so, c'è questo discorso delle ale, per me c'è una dinamica attiva comunque, da qualche parte, però se vedete funziona bene. Possiamo fare un piccolo trucco, possiamo fare un piccolo trucco, da 30 a 90, ok? Ok? E poi spostiamo tutte le nostre, ok? So, c'è un piccolo trucco, così almeno siamo sicuro, così siamo sicuri che quello non ce l'abbiamo. invece no, ce l'abbiamo. C'è un clod, c'è un clod, mi danno, come se l'abbè, c'è un clod, c'è un clod, cioè, c'è un clod, c'è un clod, mi danno noia clod a me quando sono in step, così, comunque vabbè. diciamo c'è una dinamica attiva che non so come si può levare forse c'è un deformatore vediamo esatto, ho tre modificatori come? no, no, ti sto dicendo proprio vedi magari tre modificatori ah sì, no, infatti c'è questo mirror qua che però questo penso sia della geometria e basta ma certo potevo anche applicarlo guardiamo qua ho qui niente di che no, ma non forse qua ma comunque diciamo che andiamo a vedere qui su item se c'è qualche cosa ecco sì, sì, se c'è proprio lo vedi la dinamica ci sarà un modo per levare la dinamica forse no, no comunque diciamo che vediamo se cos'è questo? cos'è questo? non è niente comunque tanto quindi vediamo appunto vedete? però possiamo vedere come funziona già ok la coda adesso bisogna lo vedete non è qui per esempio questa coda dovrebbe essere già così qui si comincia a lavorare le nostre pose in modo che così cominciano a essere più quando lavoro le pose io uso molto l'in-between ok quindi vado qua più o meno vedo ancora qua ok 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 addirittura fin qua si può cominciare quindi stessa cosa appunto la coda è sempre abbastanza difficile come concetto si può anche fare così quindi non mi rimetto un momento in Bézier in modo che così so che questo mi diventa diciamo regolare e poi lo rifaccio quindi stessa cosa si rifà un bake vedete back and forth è sempre un fare le cose ritornare indietro finché non siamo soddisfatti di questo facciamo una cosa allora ancora più prima di semplificare ancora di più teniamo per il momento solo così e poi quando cominciamo a andare in spline cominciamo a mettere delle fisiche alla coda in modo che così si semplifica un po' di più in questo momento ok poi sulla coda si ritorna al momento che abbiamo il nostro bake tra l'altro io non ho rimesso la telecamera quindi si va qua e diciamo è successo perché me lo fa mi ha tagliato via l'animazione vabbè si riapre cosa strana forse che quando ho fatto il bake in realtà mi ha rifatto il bake di tutto va bene come si diceva appunto per il momento lasciamo la coda allo spline ok ma diciamo che più o meno funziona lo vedete la meccanica del volo funziona e poi guarderò di levare anche sì ma c'è un clote eccolo qua c'è proprio qua in questo in questo punto allora a questo punto noi ok abbiamo il nostro ciro che funziona possiamo rimettere tutto in in spline e cominciare a lavorare su altri breakdown ok e sui dettagli allora intanto possiamo già lavorare sul discorso delle della bocca quindi qua qua ok quindi quando va in su la bocca leggermente si chiude overlap qui c'è un drag perché ovviamente c'è la mascella che ha un peso sempre il stesso discorso l'overshoot quindi qui c'è sempre questa pausa che è data ovviamente dalle curve poi si il play fa sempre questa pausina alla fine però appunto l'importante è che il ciclo lo vedete sia uguale qui c'è sempre questo discorso il clote ovviamente lo fa un po' diverso ma va bene e niente cominciamo a questo punto a ripulire un po' il nostro se cominciamo ad andare in spline ripulire un po' il nostro drago la prima cosa che faccio è che è ripulire la testa per ripulire la testa prendiamo questo un animation motion path calculate ok e si vede un po' come funziona il nostro spacing quindi da qua ok funziona abbastanza bene lo vedete si vede da come sono distribuiti i vari keyframe però ovviamente bisogna andare a ripulire allora la prima cosa che io faccio motion path si può anche levare a questo punto la prima cosa che io faccio quando vado in spline ed è fondamentale attenzione è fare un bake in uno ok ogni frame perché ogni frame perché allora vi faccio vedere come io ripulisco le curve di animazione allora uso questa plugin che è il il b animation comunque della nascort che è questo tool qua ok però ce ne sono altri che sono anche più che lo vedete che è questo qua che mi crea questa shelf qua e ci sono dei tool che sono anche gratuiti che fanno la stessa cosa che praticamente hanno queste funzioni qua di easy in easy out ok delle curve ora vi faccio vedere quindi la prima cosa io faccio questo è un workflow che io uso in ogni produzione faccio un bake e quanto tempo abbiamo Ale ancora tanto per regolarmi guarda di solito finiamo verso mezzanotte se non erro no perfetto quindi ancora ci sarà sì magari un quarto d'ora prima insomma sì perfetto però era per vedere un po' fino a che punto stasera si poteva andare prima poi della prossima allora intanto qua su preference vado a viewport dovrebbe essere animation only show guardate qua vabbè only show selected ok f curve keyframe cosa significa è questo quando io vado a prendere la mia che è la mia curva mi fa vedere solo la curva di cui io ho bisogno ok non tutte quindi la prima cosa che faccio ok è andare a prendere la curva allora andare a prendere la curva del ok della z che è l'up and down vado qua e mi vado a ripulire la mia la mia eccolo qua ok vedete vado a ripulirmi la mia curva in questo modo ovvero easy in easy out ok easy in qua allora qua purtroppo c'è questo discorso e tutte le volte bisogna dargli questo ok spline operator che è questo in modo che così abbiamo comunque andiamo cominciamo a vedete in realtà però mi fa un po' una cosa strana comunque quella che è quaterno è una rotation la mette da solo quel sistema lì in realtà lo puoi decidere nel rig cioè in tutti i rig ti puoi decidere se vuoi quaterno però diciamo che è quella che viene utilizzata sempre in realtà cioè è quella più comune perché è quella che ti ti permette di non avere il famigerato gimbal lock che era ai tempi di facciamo così allora anzi lo facciamo così tac il famigerato gimbal lock ai tempi del 3d max mieteva vittime tra gli animatori si mi fa una cosa un po' strana comunque via via appunto ripuliamo ok le nostre però lo vedete già ora torno un po' indietro però già come era quando io l'ho aperta ok questa se vedete questa questa curva era già molto pulita perché perché io avevo tenuto pulita la mia animazione questo è molto importante ok tenere pulita l'animazione è qualcosa che vi permette di poter tenere il controllo della vostra animazione ogni volta è molto importante quindi qua non capisco perché mi va da lì vabbè comunque in realtà non dovrebbe fare così inizio out quindi dovrebbe andare bene in quel in quel modo vabbè penso sia anche come è strutturato forse ecco questo funziona meglio come è strutturato forse anche il rig comunque appunto questo è un tool che io uso però ce ne sono altri che magari sono più o gratuiti o più alla portata perché questo comunque costicchia è un tool che io ho pagato abbastanza però ovviamente c'era altre cose che mi interessava tipo anche la libreria che ha che è molto funziona molto bene e molte altre cose quindi vabbè forse mai tutte queste cose ve le ve le condivido anche sulla sulla pagina di Blender Italia sì sì poi dammi tutti i link sì c'è una versione gratuita di questo che era che io usavo che avevo messo anche nel vi ricordate quel quel video che avevo condiviso l'altra volta di 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 che avevo fatto appunto i workflow da Maya a Blender eccetera lì c'era un diciamo un rar che appunto avevo condiviso dove c'era la versione gratuita di questo di questo tool diciamo più o meno come questo tool la qua ok che è fold unfold fold unfold quindi quando arriva qua fa un ok un 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 fold quindi va indietro ok anzi in realtà fammi vedere perché questo qua appunto questa era la la z è quella che abbiamo fatto prima allora ok in locale mi da questa quando si mette in locale ovviamente abbiamo la reale lo vedete situazione del cioè eh vabbè qui mi ha fatto un macello la reale situazione delle curve ok quindi questo per esempio in realtà che noi abbiamo z paterni anzi z ok in realtà è il back and forth che è questo fold lo vedete unfold quindi tra l'altro appunto io avevo fatto la rotazione comunque abbia uguale tanto era per farvi vedere un momento come si allora quindi noi abbiamo up and down che è l'y ok e abbiamo fold unfold fold unfold è quando anche nei felini quando corrono abbiamo fold fold unfold fold unfold è quando si comprimano per poi riestendersi qui lo stesso nella testa appunto abbiamo una compressione e estensione fold unfold e poi abbiamo appunto destra e sinistra che però possiamo anche eliminare in questo momento perché non in realtà lo vedete non abbiamo bisogno di un destra e sinistra in questo momento poi lo metteremo magari su a livello di connessione di dettaglio però semplificando quello che ci interessa di base in questo momento non ce l'abbiamo bisogno quindi la prima cosa che io faccio è prendere ok e cercare di vedere come funziona intanto come si attaccano le mie curve vedete in questo modo si attaccano male questa in realtà dovrebbe essere più dritta ok qui per esempio uguale e qua magari la prima cosa che faccio è vedere come si attaccano le due poi qui gli do più peso ok io voglio che ci sia più peso in basso da una parte e dall'altra ok qui cosa succede che io ho più peso in basso parliamo con le curve qui abbiamo questa testa che è su e qui abbiamo questa testa che è giù qui abbiamo il peso e la testa e va in basso e qui abbiamo il peso e la testa e va in alto perché qui c'è un momentum in aria e poi va di schianto in giù quindi vedete cambiando lo spacing della mia testa della mia testa io in realtà cambio anche il peso della mia testa sta più in aria e poi va giù poi la seconda cosa che io faccio sulla testa è questo fold unfold intanto questo qui lo rifinisco un po' meglio ok qua eccolo fold unfold vado qua e vedo un po' stessa cosa si attacca le curve anche questo è il suo problema delle curve si attaccano in modo sbagliato ovviamente perché c'è come vedete un easy in un rallentamento e un easy out un rallentamento iniziale e un rallentamento finale che in realtà però devono essere in questo modo che magari voglio un po' più questo però magari ecco sempre meglio questo e poi questa la voglio più tonda all'altra parte ok in modo che così sia abbastanza dolce come si muove avanti e indietro avanti e indietro poi poi ritorna qua più peso ovviamente quando quando torna indietro magari più più regolare qua ma anche mai tutti quei pallini o non si potrebbero fare delle spline normali come in illustrator come nei programmi di grafica no perché queste sono le tue chiavi sono molto importanti e qui vedi tutte le tue chiavi è importante che in realtà queste informazioni ci siano anche mai a queste diciamo che tutti i programmi di grafica hanno di animazione questi questi questa visualizzazione in realtà in realtà il discorso anche di Blender a livello di di cosa a livello di come si chiama di Graph Editor per me è quello che funziona meglio perché mi ricorda un po' XSI che era per me stato il programma migliore io l'ho avuto e poi che poi ovviamente è stato integrato da Maya purtroppo sono fermato alla 13 come? sono fermato alla 13 è stata l'ultima è stata l'ultima perché io quando l'ho utilizzato l'ultima volta ero in Islanda che si usava in una serie tra l'altro c'era quella che poi è stata integrata come Bifrosting in Maya e che era un simulatore in tempo reale di liquidi che si simulava un oceano fantastico erano tu scusami erano tutte che non mi ricordo più tutte e due di Alias anche una delle due era di Alias sicuramente sì era XSI che poi però venne comprato da Autodesk sì sì lo so e poi Autodesk lo chiuse ma Maya anche lui l'ha comprata di chi era Maya Maya era sempre penso Alias anche Maya penso sì era Webfront anche quella c'era Alias Webfront che fu la prima c'era Alias anche quella c'era Alias Webfront che era la prima che era su Mac penso addirittura c'era la versione con un vecchio fanetto rosso che lo ricordo sì sì che uscì prima su Mac si parla del 91 forse e poi uscì su PC che ancora non erano e poi dopo Wavefront ci fu 3D non era 3D Max era 3D Studio Autodesk ha fatto solo 3D Studio e AutoCAD tutto il resto esatto quando poi uscì Maya con Alias che loro avevano 3D Studio faceva comprare eh faceva schifo 3D Studio eh sì il Studio era molto terrafelio Maya fu creato dalla Disney per Aladin quindi era quello più avanzato poi Blender in realtà nacque negli stessi anni quindi Blender comunque nacque prima di Maya nacque fra Maya e 3D e 3D Studio Blender prima ci fu 3D Studio che rimase per tanti anni poi Maya mi sembra fu nel 90 92 93 beh può essere perché io ho cominciato nell'85 col primo Mac e dopo poco hanno cominciato a uscire secondo me i programmi di quel tipo di Maya e Softimage secondo me sì poi c'era Lightwave su Amiga esatto sì Lightwave su Amiga perché io mi ricordo c'avevo addirittura c'era un negozietto a Firenze si chiamava Asso Computer Asso Elettronica o Asso Computer che praticamente ti piratava i programmi te andavi e c'avevi i dischetti i Lightwave sì c'avevano un catalogo che te sceglievi c'era giochi c'era tutto c'era il Lightwave sì e praticamente loro ti andavi e le pagavi quindi io il primo Lightwave per Amiga l'ho preso in questo negozietto ricordo che era noi a Reggio Reggio Emilia io sono di Paola ma a Reggio Emilia c'era un negozio che tra l'altro è quello che ha importato se non sbaglio non vorrei dire una stupidata Photoshop per primo lo che aveva importato un negozio dire l'Iren si chiamava ma erano quelli che avevano anche Corel Draw eh Corel Draw però non so quando è venuto io l'ho usato poco ma comunque erano gli stessi che promuovevano Corel Draw che io mi ricordo quando facevano le quando promuovevano questi software dentro gli alberghi che c'erano convegni dentro gli alberghi perché sembrava una cosa era una roba grossa all'epoca super professionale quindi le prendevi il tuo pass andavi dentro io l'ho preso per Corel Draw mi ricordo c'erano questi qui che erano di Reggio mi sembra l'Iren li conoscevo ci avevo fatto anche un po' di consulenza su certe cose io mi ricordo che ero andato a proposito di alberghi del grande hotel di Rimini dove appunto facevano una presentazione di questi software qua sì sì perché comunque era no era diciamo la prima volta che si si vedeva cose del genere insomma ma comunque dal cinema da Jurassic Park no allora c'era tutto io mi ricordo appunto l'Amica 4000 anche c'è un'Amica 4000 giù nel box rispetto di essere restaurata eh il film dei serpenti di Abissi l'avevano fatto con con Softimage sì sì con Softimage era tutto fatto con Softimage ma anche Hoso anche Terminator 2 il discorso ma anche T-Rex di Jurassic Park in realtà perché l'industria di T-Magic si 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 muoveva con Softimage e e poi facevano render su eh Amica 4000 che era perché praticamente c'era dei processori grafici io mi ricordo che avevo un programma fatto in Italia che è stato secondo me un geniale ehm che aveva dentro eh praticamente Pixar no? eh e c'erano due miei amici di Busto Asfizio che avevano fatto delle ehm di Shader Ball praticamente con un con una sfera avevano fatto tutti i palloni da rugby da basket da core perfetti su che oggi non li riusciresti a fare e alla fine del libro che ha fatto ehm la Pixar no? che l'ha fatto uno in italiano c'era proprio una specie di filetto dove diceva che questi avevano fatto il miglior plugin eh al mondo per questo rendermen di allora insomma eh sì che era il primo rendermen tra l'altro penso il primo rendermen esatto sì sì ma infatti si parla di un ragazzo che tra l'altro faceva il programmatore l'altro aveva una fabbrica di calze quindi con no vabbè ma c'è stato un momento in cui c'è proprio stata la sperimentazione nel senso e poi dicevo con Solid Thinking quello che ha fatto che è Guido Quaroni è diventato capo diciamo supervisore di tutti i film della Pixar è andato in America sì sì lui lo conosco di nome lui ha fondato non so se Verona Vicenza aveva fatto questo programma poi quando ho visto il suo programma l'hanno accettato ed è diventato nei titoli di corda della Pixar c'è il suo nome sì 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 lui penso sia stato anche uno dei primi italiani andare all'estero non è più con una Pixar no anche perché poi la Pixar adesso comunque ha fatto tutti i tuoi story che ha fatti lui sì 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 lui era nei tuoi story ma me lo ricordo perché appunto tra l'altro mi ricordo che l'ho contattata su LinkedIn per penso quando volevo quando appunto ero più interessato ai discorsi america e poi lascia perdere perché ma in realtà in realtà io ho fatto un colloquio con la Pixar mi chiamarono per un colloquio d'animazione però il problema è che la Pixar adesso cioè adesso ormai da parecchi anni prende solo persone che hanno già il visto quindi io mi feci questo questo colloquio praticamente presi l'aeroplano per andare da Valencia a Chicago rimasi sei ore a Chicago e poi tornai a Valencia per lavorare sempre cioè praticamente presi una mezzogiornata libera per andare per fare Valencia a Chicago però appunto era era il colloquio con la Pixar quindi ti racconto una storia per poi la carta verde dell'America io ho un carissimo amico architetto che tra l'altro gli ho insegnato di usare Archicade un giorno mi telefono e che c'è suo fratello che torna dall'America ha lavorato nove anni in America in nero nella più grande ditta mondiale che fa riviste grafiche fotografiche che adesso la Condenast mi sembra che fosse a un certo punto ha vinto alla lotteria la carta verde ed è tornato in Italia ha detto scusa un attimo hai vinto la carta verde sei stato là nove anni e lui fa ma perché stare a vivere come qua no in America devi essere bilionario cioè praticamente non è che vivi tanto bene sì sì ma guarda io ho vissuto sette anni appunto in Canada quindi è Nord America quindi è più o meno sia lì c'è nel senso comunque sia poi c'è tutta un'altra serie di disagi comunque che discorso della sanità se ti ammali si è rovinato sì te faccio conto io pure avendo il permesso di lavoro mi era scaduto il permesso sanitario e te hai bisogno di almeno un anno di permesso di lavoro ogni volta per averlo rinnovato e loro per risparmiare non te lo fanno il permesso di un anno ti fanno sempre quello di dieci mesi quindi io sono rimasto praticamente anni senza la copertura sanitaria io in più faccio judo faccio quindi mi uscì il menisco a judo e me lo sono rimesso dentro a pugni aspetta c'è problema perché mi 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 dissero no va all'ospedale guardate no ma vai andai e praticamente solo per il triage erano 7000 dollari sì sì cioè praticamente delle cose senza senso cioè cose che un letto d'ospedale viene 70.000 dollari la il giorno cioè quindi ovviamente non cioè non ci vai e dici vabbè se t'ammali cazzi ma infatti io sono tornato per altri motivi nel senso io sono tornato che sta con la mia compagna eccetera quindi non è in realtà non c'avevo mai pensato disagio il Canada le sto vivendo cioè le sto riscoprendo adesso da qui dico effettivamente era un paese un po' disagiato cioè è un paese un po' disagiato sia la canadese mi sembra tra l'altro eh come? alias sì sì era sì sì ma anche Autodesk era la sede centrale a Montreal sì io ce l'avevo tra l'altro di fronte quando lavoravo in NPC ce l'avevo di fronte a ecco all'ufficio cioè proprio una specie di palazzina appunto scritto Autodesk è la sede centrale sono lì nel centro di Montreal sì anche Alias infatti è canadese ma diciamo che quello che aveva creato Alias che poi venne trovato morto in un residence perché venne ammazzato due anni fa e lui era canadese di Montreal perché diciamo che Montreal ci ha avuto sempre cosa no ci ha avuto sempre i soldi per portare avanti cose del genere cioè il Canada è sempre stato ricco come paese per portare avanti cose del genere per cui il discorso di molti studi molti è che ci sono che poi adesso insomma sta attraversando un periodo abbastanza buio però l'inno sanitario è migliore mi sembra in Canada ho visto quel film di Moore che parlava che portava in Canada a farsi curare certe persone che in America non potevano insomma dei poveri sì ma sì però adesso non c'è più questo nel senso hanno uniformato molto le cose anche anche in Canada vedete cosa sta facendo adesso intanto guardate questo aveva un'escursione troppo ampia della testa lo sto scalando in modo è così c'è sempre la rotazione ma questo è magari scalato un po' troppo quindi prendo la scala leggermente così e poi appunto per il momento sto facendo una pulizia delle curve e poi comincerò a lavorare sugli offset anche il discorso degli offset è molto interessante perché è lì che poi si dà il discorso dei vari pesi ai vari elementi quindi questo mi fa sempre questo che in realtà non mi piace moltissimo perché ci sono i punti vicini e punti non però in realtà dovrebbe dovrebbe riuscire questo è quello che diciamo che te le blenda meglio però poi appunto quest'altra volta farò vedere anche quell'altro tool che diciamo le blenda meglio rispetto a questo 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 fa troppo peso in basso comunque è abbastanza buono nel senso riesce a fare comunque cose abbastanza buone sicuramente è più veloce mettersi lì a fare la curva allora qua poi abbiamo questa rotazione qua che è il tilt ok che però questo anzi è questo che però sia questo che il tilt possono essere per il momento spenti e si tiene un po' più pulita l'animazione quando arriva qua il la testa in realtà qua quando arriva qua questo è il punto più basso della testa voglio che questo sia il punto più basso ora come si fa a a capire qual è il punto cioè come si fa a farlo diventare il punto più basso perché si sposta semplicemente si sposta semplicemente la la curva più qua e poi si mette questo in infinity ora infinity fammi vedere dove era qua perché io l'infinity sulle curve di dove l'infinity perché ora ora c'è anche maia che mi mi ronza che tutto il giorno con maia ovviamente come tanto per il momento segniamolo così ok comunque vedete che offset andolo ok si può anche fare così si può anche prendere e questo metterlo qua uguale ok quindi cominciamo già poi a lavorare su questi offset però intanto per il momento si fa un offset della curva principale poi da qua si passa al collo ok eccolo qua allora il collo vedete c'è questo blocco qua che in realtà questo dovrebbe essere tutto abbastanza libero nel senso questo dovrebbe andare intanto faccio sempre il discorso che voglio che questo sia fare il genere ah questo è buono anche guarda qua ci sembra una spline qua sì questo se lo questo se lo semplifica questo questo magari è buono questo è quello lì per il cosa comunque vabbè diciamo che la cosa poi appunto vi farò vedere quell'altro che quell'altro è un po' di più mi piace un po' di più comunque andiamo qua qua da questo punto qua si vende il blend chi è questo come si chiama questo ora aspetta allora cosa è della NAScore e si chiama non mi ricordo il nome è la don bit bit animation blender essential animation tool io ho comprato quello che hai detto la volta scorsa però non l'ho ancora usato aspettavo che ce lo spiegassi poi dopo un po' tu quello dei layer ah quello dei layer sì tanto guarda si usa poi i layer su questo del drago la prossima volta quindi sì ve lo spiego perché i layer sono fondamentali tra l'altro ho fatto proprio una specie di lezione oggi allo studio proprio sui layer perché anche a livello di produzione riescano a facilitarti la vita tantissimo comunque parlando di plugin io l'ho detto l'altra volta ma è passato inosservato nessuno l'ha avuto in nota ma forse scade domani e dopodomani magari poi lo rinnovano ci sono praticamente una quindicina o più plugin del valore di mille qualcosa euro io l'ho comprato ed è vero non è una truffa che secondo me perché stanno ormai non vanno più avanti non li vendono più però ci sono anche box cutter tutte quelle cose lì anche della roba quello dell'oceano un sacco di plugin offri tu dai 15 ai 30 euro o di più se vuoi se vuoi offrire e io ho pagato 30 euro ma dove questo su cosa allora è su ho mandato il link un'altra volta lo trovi sia su humble si chiama ma poi dopo io l'ho comprato pure direttamente mi sembra da blender kit addirittura c'è un'offerta di adesso guardo se trovo scusa un attimo io su humble ho comprato una collezione di libri tra esatto lì quanto li ho pagato tipo una decina di gira di Roma e beh questo questo qua i libri ci sono tre offerte uno di tutti i libri io l'ho comprato perché non ne so niente voglio studiare Unreal ci saranno 30 libri di Unreal anche lì fai l'offerta è lo stesso sito lo stesso dove ci sono quelli lì si mettono d'accordo collegati di 10 di blender fanno dei bundle che poi il cavato va in beneficenza sì esatto infatti c'è quello dei costi di blender che è bellissimo c'è un sacco di belle cose voi avete visto per esempio noi a Natale facciamo i premi per il contesto di Natale e poi noi arriviamo a quella cifra Noi diamo i primi premi che sono per migliaia di euro, premi anche Amazon, premi Adon e quant'altro. Noi semplicemente scriviamo le case e loro ce lo danno. Per una settimana, io ve l'ho detto all'ultima riunione, ma è passato inosservato, non l'avete letto. Tu con 30 euro hai 20 plugin, uno è più bello dell'altro. C'è uno che fa l'unione in movimento, che fa gratis praticamente. Ma allora questo è da vedere. Ho messo il link in chat, semplicemente sono così tanto scontati perché non hai disponibili i futuri aggiornamenti. Ah ma l'avevo visto allora, erano quelli di Cosme, si chiamano. Sì che loro sono famosi anche. Sì esatto. Quasi quasi questo lo prendo. Mi è arrivato il messaggio, ho detto ma sarà una truffa? Invece no, praticamente. No io ho visto quelli dei libri, ho preso quelli dei libri di Unreal. E anche io li comprati tutti, anche quelli lì, ma io parto da zero lì, li parto da zero, non so se riuscirò a leggerli perché sono tutte in inglese. Io l'anno scorso ho fatto un corso a Unreal gratuito, mi è preso parecchio. Quindi l'ho scaricato anche per il bene di Vicenza, poi un 14 euro che fa, ma anche il fatto proprio dai cartellini da un altro po' fare un 14 euro. Allora, intanto qui abbiamo cominciato un po' a fare lo spline, in realtà volevo solo fare il blog, diciamo siamo andati un po' avanti stanotte. Allora, io direi di lasciare questi minuti per domande, se ne avete o dubbi, perplessità, curiosità. Io avrei due domande. Posso? Sì. Allora, questa procedura che hai mostrato te è la prima volta che la vedo. Nel momento in cui tu metti, diciamo, tutta l'animazione in bake, praticamente è noto che spariscono tutti i manipolatori delle curve. In che senso i manipolatori delle curve? Ah, vabbè, quando lo metti in step. Quando metti le curve in step, sì. No, in questo momento, quando tu fai il bake dell'animation, ogni praticamente vertice presente sulla curva, sembra che non hai manipolatori. I manipolatori sono quelle maniglie, gli handle, no? Sì, sì. È la prima volta che vedo questa procedura. In altri corsi che ho fatto di animazione, invece, questa procedura non viene usata. Vengono comunque utilizzati gli handle messi in modalità free, o vector, oppure in automatic. Quindi volevo chiedere se questa è obbligatoria, questa procedura? Non è che obbligatoria, ma, allora, quello lì che poi vengono chiamate handle pesati o non pesati, free o comunque lockati, come le puoi chiamare. Allora, il handle free, c'è un problema quando ti usi l'handle free, che ti lasci fare, diventa non precisa la curva, cominci a manipolare la curva, però non rendendoti conto effettivamente del peso. Qui la disegni, hai il massimo controllo. Questo è, diciamo, un workflow che io uso da anni e che uso poi, vabbè, non solo su Blender, ma uso anche su Maya, su, diciamo, ogni solo, anche su Cinema 4D c'è la possibilità di fare, appunto, di ripulire le curve attraverso questa cosa e che ti permette di avere il massimo controllo, in realtà, di capire meglio il graph editor anche, perché quando ti usi l'handle, tendi a arrotondare e tendi a fare tutto molto floating. Una cosa, una cosa, uno delle caratteristiche, proprio, quando vedi qualcuno che usa l'handle, è proprio il discorso che le animazioni sono floating, manca antipeso, perché hai tutte queste cose tonde, che però, senza sapere effettivamente perché, perché te prendi l'handle e la muovi. Cosa che io, anche agli animatori, non dico di non fare assolutamente, ma c'è una cosa che ti, diciamo che l'animazione 3D funziona laddove non lasci lavorare, meno lasci lavorare il software, più l'animazione funziona, perché anche il discorso di interpolazione, eccetera, più le controlli, più ci stai dietro. Molte volte io faccio anche le cose, poi si guarderanno la prossima volta, però quando si comincia a avanzare nell'animazione, proprio le cose io comincio a fare anche frame by frame, comincio a correggere pose, oppure proprio faccio pressioni delle zampe, delle dita, eccetera, anche frame by frame, perché hai il pieno controllo di tutto e non lasci niente al caso, anche perché poi c'è il discorso, qui ovviamente si sta facendo animazione che non è di produzione, però diciamo che l'obiettivo, lo scopo è lavorare anche in produzione, dove comunque hai dei retake, hai delle cose da correggere, che poi quando ti dicono appunto correggimi questo e te non sai effettivamente che hai perso il controllo in quel momento, non sai effettivamente come hai fatto quella cosa, è quando appunto arrivano le palle di neve, che poi si trasformano in valanga, perché è una cosa, da un errore, cioè io ho visto veramente stravolgere scene d'animazione per poi semplici fix, che l'esempio è stato oggi con un'animatrice del mio studio, dove appunto aveva da fare un retake, e appunto ha stravolto mezzo shot, quando in realtà doveva fare una cosa che prendeva due minuti, perché non capiva, perché ovviamente non aveva tenuto il controllo dell'animazione, che è una cosa che è molto comune e che è noto tanto anche negli studi, cioè nel senso non solo dagli junior, ma anche da persone che magari lavorano da qualche anno, perché hanno avuto magari un imprinting sbagliato. Ma capito, ma questo plugin in questo caso che tu utilizzi funziona solo sulla 4 oppure anche... No, no, questo funziona addirittura sulla 2.9, ma c'è un altro che poi vi linko semmai, ho proprio un pacchetto rare dove c'è un altro add-on, un altro plugin, però gratuito, che per me funziona anche meglio, però qui non ce l'avevo installato, dovevo riscaricarlo da Inter. Comunque vi do, perché c'è proprio un RAR che tengo sul mio drive, che io avevo messo in link in un video che avevo fatto su YouTube. quello funziona anche meglio di questo, perché questo non mi piace, mi pesa, quell'altro invece funziona proprio come dovrebbe funzionare, e quello è gratuito. E sono add-on che funzionano, sì, su tutte le versioni. Ti dico, questo era il 2.9 funziona, il 4.2.2, perché l'ho utilizzato anche sul 4.2.2. Ok, grazie. Quindi, sì, niente. Beh, direi che se non ci sono altre domande, ti andrò a Nanna, che ne pensate? Io ce ne avrei una. Sì, vai, vai, vai. Sì, vai. Quali sono le principali problematiche che ti trovi a dover affrontare a livello di errori di rig e topologia? Allora, guarda, topologia adesso, anche perché ormai la topologia è praticamente quasi automatica, e c'è due cose. Ormai quasi tutti i software hanno un retopologio automatico, che più o meno funziona bene, però, diciamo che le pesature, il modo in cui calcola e weight il software è diventato meno esigente, quindi diciamo che più o meno la topologia adesso, ovviamente deve avere una cosa fatta bene, però non c'è più il discorso di fare le cose come era prima, più preciso, dove dovete fare la topologia a mano. Per il discorso dei rig, la problematica maggiore del riscontro è il fatto che prima c'era un discorso di fare rig un po' più approfondito, nel senso che dovevi prendere e dovevi farti il rig da... Io cominciavo a fare il rig nel 2009-2010 con Maya, dove non c'era un altro rig e dove ti facevi il rig praticamente a mano con le varie gerarchie. Gli altro rig sono fantastici, cioè io uso Rigify, mi piace, eccetera, però il problema è che se non c'hai una conoscenza di come lo scheletro comunque deve essere fatto e dove devono essere determinati controlli, anche in produzioni grosse, tra cui House of the Dragon appunto, hai degli errori incredibili. Io in House of the Dragon ho combattuto quattro mesi con i rigger perché c'era la zampa del dragone che aveva la... ovviamente che è un digiforme, scusate, un digitigrado, quindi che deve appoggiare appunto le dita, aveva questa parte qua che doveva essere qua, ce l'aveva qui in fondo. Quindi vuol dire che lui non poteva fare questo, ovviamente faceva questo e gli ho dovuto fare disegni, gli ho dovuto fare cose, quindi quando alla fine ho preso il rig e gli ho fatto un video smontandolo dicendo io voglio questo, punto, cioè datemi questo e basta, però insomma diversi mesi ci ho combattuto. Quindi diciamo che più o meno nei rig il problema è il discorso che molti gli manca proprio. Un altro esempio è stato anche l'altro, questo progetto fatto appunto a Vienna che il rigger che era uno junior, bravo, però non capiva dove dovevano essere messe bene le ossa di un orso, che non è anatomia, cioè nel senso sì, si basa sull'anatomia, però il rig 3D in realtà è una versione semplificata e non riusciva a capire il discorso proprio dove era il polso, dove era la scapola, eccetera, la faceva sempre sbagliata. Questo lo dovevo mettere lì e spiegargli le dita. Ma in quel caso non ci si può basare su una reference di... Sì, ma infatti è quello che gli dicevo io. Però il problema è anche questo, che molte volte il fatto di dire usa le reference è sempre più un qualcosa perché fa figo, no? Che per l'amor di Dio lo facevo anch'io anni fa, quando mi dicevano usa le reference nell'animazione diceva, beh, tanto perché devo usare le reference. Nel senso, le reference sono importantissime, sono la base per fare le cose che non siano modellazione, animazione, rig, texture, lighting. Se non c'è la reference vai a caso. Il fatto che uno vada a caso vuol dire segue cliché che c'è nella sua mente che al 95% sono sbagliati. Comunque sia, il cervello non, diciamo, ti dà informazioni che se te non hai di base con validà, a meno se hanno nozioni che te hai acquisito, però cose che più o meno pensi che vadano bene, ok? E uno degli esempi più comuni a livello pratico è il Mandela Effect. Per cui, appunto, gente pensava che Mandela era morto e in realtà non era morto. Perché c'è il cervello e praticamente ti crea delle informazioni che pensi siano corrette e che poi in realtà possono essere sbagliate. Però te non ti poni il problema se sono sbagliate o meno finché non c'hai un riscontro. Che nelle cose più logiche, come matematica, chimica, fisica, eccetera, può essere immediato. Però in altre cose, specialmente quelle visive, è meno immediato e diventa meno richiesto. Capisci? Quindi, in realtà, nel senso, quando gli dicevi di usare una reference, lui magari ti diceva ah, sì, ok, e poi non l'ha usata. Quindi mi sono dovuto mettere lì, appunto, con reference anatomica dell'orso a dire, vedi, voglio questo, questo, questo e questo. E quindi c'è un po' questa cosa nei rig. Non è facile fare un rig per nulla. Un rig ottimale non è facile. Però, insomma, comunque è anche vero che con i mezzi ci sono adesso e non ti devi più fare tutte le cose a mano. Quindi basterebbe un po' più d'attenzione. Che ora, io su Blender sto usando Faceit, Rigify, cioè, averli avuti anni fa, nel senso. Tutte le Blendshape le dovevo fare a mano. che era un lavorone. Poi, appunto, io nasco come animatore, però ho sempre, mi è sempre piaciuto contaminare le altre cose, nel senso. Ho lavorato come Rig e come... Eh? Io chiedo perché vorrei arrivare ad animare, però ho, tra virgolette, acquisito la consapevolezza che prima è bene studiare anche tutto il resto o almeno avere un'infrenatura molto importante. Sì, 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 no, ma è fondamentale. Problematiche non saperle risolvere. È fondamentale. Grazie mille. Di niente. Altre domande? Bene. Direi di andare a nanna allora. Ci rivediamo poi in calendario quando è l'altro evento. Se non mi sbaglio, aspetta che lo vado a vedere. Eh, vai a vedere perché... Ci diamo un appuntamento. Un attimo di pazienza che prendo il calendario. Aspetta che c'era uno che si chiama Stefano a calzetto alla mano. Stefano, hai qualcosa da dire? No. Ha cambiato idea. Adesso ci rivediamo. Sto aprendo il calendario. Eccoci qua. prossimo workshop, ultimo workshop, l'abbiamo il... Oggi ne abbiamo 30. Il 15. Il 15 ottobre abbiamo l'altro workshop, va bene? Quindi ci vediamo il 15 ottobre e vi avviserò per tempo, va bene? No. 15 ottobre. No, tanto sono registrate, anzi... Eh, lo so. Il 15 o il 16 ci sono dei corsi per una... per una regia russi. E pazienza, te li vedrai indifferita, non è un problema. Quindi registriamo, li rimettiamo a disposizione, non vi preoccupate, va bene? A tutti una buona serata. Grazie Gabriele per questo workshop. Ci vediamo... Grazie. Ci risentiamo con calma. Ci vediamo poi per il workshop il 15 ottobre. Ciao, una buona serata a tutti. Perfetto. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Grazie a voi. Ciao, ciao, buona serata. Buona notte.